Grazie per i mille iscritti, la tua non funziona Non è vero, non è dei cinesi Grazie davvero ragazzi, per i mille iscritti sono tantissimi È una cosa assurda, io non mi aspettavo che li avremmo raggiunti Non le sai suonare Non le sai suonare quindi non interrompe Guarda, aspetta Ma non è colpa mia, sono dei cinesi, non sono io che non li so suonare Tieni, tieni, voglio vedere Visto? Vedi che sono le mie difettose È impazzito ragazzi È troppo felice anche lui per i mille iscritti Siete fantastici, non so cosa dire, è bellissimo È davvero bellissimo perché comunque i mille iscritti magari sembrano poco in confronto a un canale gigante Ma per noi si può dire che è il primo traguardo davvero importante Sono troppo troppo contenta Per di più le abbiamo fatti in soltanto tipo tre mesi e mezzo Una roba del genere che è un traguardo incredibile Assurdo! Ovviamente ci aspettavamo che prima o poi saremmo arrivati a mille iscritti Però pensavamo cinque, sei mesi E invece tre mesi e mezzo È davvero bello ragazzi Grazie mille perché è davvero una figata Ovviamente ci sarà anche uno speciale per festeggiare tutti assieme Lo dobbiamo ancora preparare Speriamo che uscirà entro la prossima settimana Esatto Sarà una sorpresa che spero vi piacerà tantissimo Lo spero tanto Stiamo cercando di pensare qualcosa di carino che vi possa piacere Così da poter festeggiare ed essere tutti felici e contenti Esattamente Ovviamente Ovviamente Pensavo te lo stessi dimenticando Ecco mi stavi già interrompendo Esatto Vai 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 Questo non è l'unico video di oggi Ci sarà anche un altro video che esce alle 19 come sempre Quindi non dimenticatevi di guardare pure quello Ovviamente The Sims Ovviamente Bello Questo episodio ragazzi lo dovete vedere perché secondo me è uscito davvero carino Guarda stavo morendo di risate solo a registrarlo Comunque io volevo parlare anche di un'altra cosa Dato che siamo in tema di ringraziamenti Ci tenevamo anche a salutarvi Perché abbiamo notato che è una cosa a cui tenete molto Ce la chiedete davvero davvero spesso Abbiamo provato anche a fare una lista Ma ci siamo resi conto che siete davvero tanti ragazzi No non ha funzionato Sono le trombette Siete tanti Cioè penso che il video poi sarebbe finito dieci minuti a dire nomi Tipo l'Italia della spesa Ciao Michele Ciao Giuseppe Esatto Avevamo paura che potesse risultare un po' noioso Quindi quindi non vi disperate Perché abbiamo pensato un'altra soluzione La vuole dire lei Steph? Certo grazie Ovviamente fateci sapere nei commenti se vi piace Ne abbiamo soltanto provato a pensare a un'idea per accontentare tutti piano piano Allora abbiamo pensato di iniziare dal prossimo video Ovviamente quelli che non abbiamo ancora registrato Diciamo dalla prossima settimana Esatto ancora meglio Perché Steph poverino deve fare delle visite Quindi abbiamo già registrato i video di questa settimana Esattamente Di iniziare a salutare tre di voi ad ogni video Dando priorità a chi condividerà il video su Facebook Dato che se non lo sapete ragazzi Condividendo il video su Facebook Ci date una mano incredibile a crescere E facendo così ci aiutate davvero a crescere E a diventare un canale sempre più grande E ovviamente a poter fare sempre più video E ovviamente farli meglio No comunque ragazzi Le condivisioni sono importanti ovviamente se vi fa piacere Certo Non vogliamo costringere nessuno a fare niente a forza Non è una sorta di ricatto Perché io avevo paura potesse sembrare una sorta di No è solo un modo diciamo per Siccome Perché assieme le cose Esatto Perché alla fine comunque Questo volevo arrivare a dire Il canale se non ci foste voi non esisterebbe Cioè se nessuno guarda i video Non avrebbe senso farli per Capitano ovvio No ma non avrebbe senso farli per zero persone Quindi voglio che sia una cosa che facciamo tutti assieme A me non è mai piaciuta l'idea del Ah noi siamo qui su YouTube Voi commentate Chi se ne frega dei vostri commenti Infatti noi cerchiamo sempre di stare attivi Perché ci piace proprio avere un rapporto stretto Con chi ci segue Quindi vi chiediamo giusto questo piccolo favore Ovviamente Ah che bel discorso Ripeto se vi fa piacere nessuno obbligo Ovviamente per farci sapere se avete condiviso il video Basterà scrivere nei commenti su YouTube L'hashtag conquistiamo YouTube Ormai è un must Mi piace troppo usarla L'abbiamo letta qualche volta nei commenti Mi è piaciuta troppo Suona troppo bene Ci sta bene Ci sta bene Quindi in questo modo ci farete sapere Che avete condiviso il video Ovviamente faremo un ordine cronologico Quindi i primi che commenteranno con questo hashtag Saranno i primi a essere salutati nei video E piano piano cercheremo di salutare sempre tutti Se abbiate pazienza cercheremo di fare il possibile per accontentarvi tutti Quindi ragazzi grazie ancora Ci fermiamo così Non devi suonare mentre io sto salutando Io faccio i cuoricini Ovviamente ci vediamo alle 19 con The Sims Ciao ciao